Siamo Samsung Electronics. Mettiamo le persone al centro della nostra innovazione per aiutarli a connettersi con il proprio mondo e semplificare la vita di tutti i giorni. 7 design center 37 centri di ricerca e sviluppo 74 sedi nel mondo Oltre 309.000 dipendenti e 19 miliardi di dollari di investimenti in ricerca e sviluppo. Anche quest'anno Samsung è il quinto brand per valori al mondo e a livello globale il terzo tra i brand più influenti nella vita dei consumatori. In Italia siamo nati nel 1991 e abbiamo ad oggi 540 dipendenti con un fatturato di 2,5 miliardi di euro. Quello che ci rende più fieri? Essere il brand di elettronica di consumo più venduto in Italia. E dal 2011 il più conosciuto e amato dagli italiani. Un successo che ci ha premiato e ha portato 8 persone su 10 a scegliere il nostro brand. E nella metà delle famiglie italiane sono presenti due o più prodotti Samsung. L'innovazione è la bussola che ci guida e passione e ricerca costante hanno fatto di noi un leader di mercato sempre attento all'ambiente. Per questo ci siamo posti l'obiettivo di azzerare le emissioni di carbonio entro il 2050 anticipando al 2030 il raggiungimento di questo importante traguardo per la divisione Device Experience. Grazie all'intelligenza artificiale e all'innovazione dei nostri prodotti portiamo il meglio della tecnologia nelle case degli italiani offrendo ai nostri consumatori soluzioni per monitorare i consumi e fare scelte sempre più consapevoli. E siamo leader nell'efficienza energetica dei nostri grandi elettrodomestici. Siamo pronti per affrontare e percorrere nuove strade ancora tutte da esplorare.